Ascolti TV ieri, Sanremo piglia tutto, e viene nel baratro. Il festival di Sanremo, Rai 1, nella serata dei duetti, fa registrare nuovamente dati monster. Raggiungendo 11,1 milioni di utenti e il 66,5% di share. Al resto del palinsesto generalista restano solo le briciole. Canale 5, proponendo la casa di famiglia, crolla persino al 3,6% di share, solo 825, 9,9 mila spettatori. Le Iene Show, Italia 1, dimezza il proprio pubblico rispetto al solito, intercettando soltanto 732 mila utenti, 4%. Nessun programma, naturalmente oltre a Sanremo, si è avvicinato al milione di spettatori. Di seguito tutti i dati relativi al Prime Time di venerdì 10 febbraio 2023. Striscia la notizia sprofonda al 9,6% di share. Muschio selvaggio di Fedez solo al 2,8%. Bortone e Matano, con il traimo Sanremo, ottengono dati entusiasmanti. In calo pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Sanremo fa prendere il volo a storie italiane, mattino 5 in calo. Grazie. Ma linea. Grazie. 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 Grazie a tutti.